Cosa vi differenzia rispetto agli altri? Innanzitutto noi ci distingueremo per il rapporto diretto con i cittadini, perché l'amministrazione deve essere al servizio dei cittadini e non i cittadini a servizio dell'amministrazione. Sinora nella politica italiana e in quella pesarese c'è stato troppo distacco fra le esigenze dei cittadini, fra i cittadini e del comune. Noi invece vogliamo rendere Pesaro la città dei cittadini. Vieni oltre, come ho già detto e mi piace usare un'espressione, è tanta roba, perché questa lista civica per l'appunto è una lista civica aperta ed è la lista civica dei cittadini e quindi quale espressione migliore che quella nota e comune ai pesaresi? Vieni oltre. Ma vieni oltre non è solo un'espressione, significa vieni insieme a noi, è la tua città, ma fai qualcosa per la tua città, noi siamo qui, tu insieme a noi, perché noi senza di te non facciamo nulla e vogliamo fare tutto solo per i cittadini, tant'è vero che noi siamo tutti dei cittadini ordinari, non siamo mai stati in politica, non vogliamo fare la politica tradizionale e per questo tengo a precisare che all'interno dello statuto c'è una clausola messa di comune accordo fra tutti noi che prevede la non possibilità di accordarsi con altri partiti. La città deve cambiare nel rapporto con i cittadini e quindi tutto quello che sarà il nostro programma che oggi illustreremo in maniera molto sintetica è un rapporto diretto con i cittadini, tant'è vero che inizieremo a fare immediatamente e continuerà per sempre, anche laddove noi supereremo le elezioni politiche, delle riunioni quindicinali in ogni quartiere di Pesaro, perché ci sono quartieri che sono stati lasciati all'abbandono, dove ascolteremo i cittadini e sulla base di questo si prenderanno le decisioni comunali. Quali sono le aspettative per la nuova lista civica Vieni Oltre e poi un piccolo indizio sul candidato o candidata? Sicuramente sarà una donna, perché è il momento delle donne, perché le donne sono coloro che danno la vita e fanno nascere e quindi noi vogliamo far nascere Pesaro e perché Pesaro non ha mai avuto un candidato donna. Le aspettative vinceremo sicuramente.